bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono flame380 e oggi siamo su clash royale beh lo so che è passato da un po il suo motivetto cioè quella forza che no ci giocavano un sacco di persone ma vabbè ora ci giocavano un po di meno però io ve lo voglio comunque portare sul canale perché un paio di voi me l'hanno chiesto quindi mi sembrava giusto la tarda dai baule del cinghiale è ancora più brutto di quello di figlio ma perché mi hai diventato aspetta aspettate ragazzi ok sto a fare un video non mi compre grazie ok sì sì ok sì ok ci siamo ok mi devo potenzializzare una nuova stavo guardando un po che cosa dai non è giusto ma questo come io mi sono uccido però mi mettono sempre carte, beh farò costo in un botto fare una battaglia visto che sono scarso devo fare le corone dai non si fanno queste cose hai capito eh neh hanno annullato il mio pacco che brutti cessi eh 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 io sarò anche scarso dai no eh no mi hanno fatto una torre su scarso ma non è giusto dai che sono più forte di così scarsi eh ve l'ho detto che siete scarso anche se una torre mi hanno lasciato una torre a ballocca di scioglie però non è possibile che mi sta facendo torre di continuo dai dai che le posso fare una torre io nooo eh quante cose scarso e basta che donna potta dai facciamore comunque unico e poi mi fanno 300 dai 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 schiere no e poi lasciato un altro e uno di vita è scarso perché dai è giusto ma il nome il barile è buono le monete quindi no ma che donna ma che di nuovo dai io che mia esperienza la esperienza vi chiedo aspetta io potrei mettere il gigante non lo so io credo il gigante questo che ha questa notizia 3.8 ok sei sempre me 3.5 quindi non è che cambiate molto dai è la seconda battaglia la stata vinco non puoi dirmi niente dai sai che è uno di quei giocatori che aspetta dai no non è uno di quei giocatori che aspetta ahi ci ho trovato due no dai questo è guai macchia questo è guai macchia dai dai che non sono giusto andi dai 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 c'è un po' di danno dai 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 ce la puoi fare ce la puoi fare ce la puoi fare dai ce la puoi fare dai 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 Tu hai di vita Tu hai di vita Sì 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 Stai Sì 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 All'ultimo secondo Ok ho vinto vero scusate però c'è a me l'ho vinto quindi apriamo la corona 300 due gemme valchiria sblocca no no non è sblocata migliorabile dai manca poco carta schiere no 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 ma che cosa stai facendo non posso sbloccare beh a stavolta mi faccio un potenziamento dai uno in più che cosa vi posso dire posso dire tanto una cosa sotto il video lasciatemi un paio di consigli e poi dimmi se volete supportare la serie e beh poi se avete scritto basta cliccate a scritto e attivate la campanellina mi fareste un'ora in favore e beh cosa posso faccio vedere ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao